Ah ma è andato in registrazione, la sta registrando ma io non lo sapevo Siamo al centro lavaggio, qua sotto Castelfidardo E adesso siamo pronti per andare a fare uno scherzetto al nostro amico prof Ruggine Però shhh Eh, Anders Ti vedo, che sorpresa Abbiamo fatto una sorpresa al prof Ruggine Ma non me l'aspettavo Ci siamo riusciti Grazie Nevicherà domenica C'è una scritta sorpresa Hello everybody Ma come fai a camminare col camper qua? Con le catene Ah ma è andato in registrazione La sta registrando ma io non lo sapevo Allora cosa dobbiamo fare qua? Perché siamo qua? Siamo qua che andiamo a fare un attimo spesa Siamo qui al centro Dove siamo qua? Siamo al centro lavaggio Qua sotto Castelfidardo C'è Marco che sta lavando Sta operando E noi andiamo un attimo a comprare Per fare spesa per il pranzo Ciao a dopo Io però con la pentola vado a vedere se c'è un rubinetto qua Vabbè dai facciamoci un aperitivo Rosso conero di Moroder Buonissimo top Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ci a prenderlo È ancora Per Roma Buonissimo C'è il mio nastro che bello sembra già un pseudocamper normale il tavolo siamo un po' in bilico il sugo è pronto mettiamo gli occhiali e adesso siamo pronti per andare a fare uno scherzetto una sorpresina al nostro amico prof ruggine però shh sentirei non dite niente un po' taglio quel pezzo non c'è un po' ma 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 non c'è un po' è tutto chiuso pizzeria canale e qua a destra si va verso visso non so se si vede ma fiocchetta molto molto poco però chissà chissà stanotte cosa ci farà la sorpresina Craig non c'è un po' ma non mi ha detto che viene tutti qui vai lì davanti orca, è lì apri a porta non ci credo, che sorpresa Leo, chi c'è? chi è? il prof ruggine non mi avete detto niente niente mi avete detto inizia a nevicare, hai visto? sì, nevica sorpresa fatta vabbè adesso sono talmente piccoli fiocchetti che non si vedono però il prof ruggine dice che forse nevicherà domenica ciao, ciao Chiara nevicherà domenica allora abbiamo fatto una sorpresa al prof ruggine ma non me l'aspettavo ci siamo riusciti grazie grazie a tutti grazie a tutti come si vede tisana time è ora della tisana e poi andiamo a dormire buonanotte a domani ciao aspetta che vediamo se ci sono le macchine ma c'è il prof ruggine che lavora già di prima mattina vieni Leo vieni buongiorno buongiorno è sorpreso c'è una scritta sorpresa buongiorno buongiorno ancora sto dormendo io e niente ha fatto un po' di neve stanotte visto ha fatto un dito di neve vai 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 Grazie a tutti. 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 E quindi facciamo rientro dalle parti di Visso. Quindi qui da Bologno alla ski, dallo chalet Z, chalet è tutto. Ciao. Intanto Leo mangia. Tisana time. Sono le 2 e 10, fuori sono meno 4. E' un cielo limpido, ci sono le stelle ma domani hanno messo neve. Chissà, speriamo. Buonanotte. Buonanotte. Quindi aspettiamo il pomeriggio per vedere se la situazione migliora nel senso positivo, che aumenta a livello di precipitazione nevosa. Speriamo, speriamo, speriamo. Leo, ciao. Buongiorno, buongiorno. Allora, riscaldatore top. Abbiamo tenuto al minimo acceso tutta la notte, abbiamo coperto qui un pochino la pompa, almeno si sentiva di meno il ticchettio, ma top. Al minimo siamo stati dentro tranquillamente in maglia, maniche corte sotto, vabbè, sotto il piumone, ma top. Fuori ieri era meno 4, quando siamo andati a dormire adesso sarà 0, perché sta nevicando fitto fino fino fino, quindi sarà 0 gradi. Ma si sta veramente bene. E Leo, aspetta la mamma. Dov'è mamma? Eh, dov'è mamma? Ah, che spettacolo. Dai, dai, dai che nevica, dai, dai Leo che nevica. Dai che nevica, dai che nevica. Eh, 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 dai che nevica. Sì, sì, carezzine, sì, sì, bacini, bacini, sì. Leo? Ssss. Ma dov'è che si è arrampicato? Mamma mia. Che spettacolo. Vabbè, mi butta, mi butta. Ah, che spettacolo. Cos'è Leo tutta sta neve, cos'è? Andiamo Leo, andiamo. No, aspetta perché se arriva lo spazzadeve Fabri. Andiamo. Adesso mi si bagnano i piedi già lo spazzadeve. Diego, ma come fai a camminare col camper qua? Con le catene. Ma la strada non vedi dove vado? Eh? Come no? Però dà una sensazione come di... Di ovattato. Sì. Abbiamo il prof. Ruggine in diretta. Shhh. È in live. È in live. Noi andiamo qua verso Fior di Monte. Com'è che si chiama? Fior di Monte. C'è un cimitero. Andiamo a vedere. No, ma il paesaggio è bello. Il paesaggio è bello. E diciamo che ne sta buttando giù qualche fiocchettino, eh? I tali non possono entrare. Qualche fiocchettino. Adesso qua siamo in un posto... Particolare. C'è il prof. Ruggine in diretta. Ciao. Nevica. Breve storia triste. Leo! Leo non puoi entrare più, vai. Siamo usciti adesso. Dove vai? Andiamo, vieni. E il prof è ancora in live? Sì. Ah. Io ti aspettavo qua. Ah. Vedi? Dove sei? Sono qua. T'ho aspettato in live. Ah, ciao. Guarda chi ci abbiamo qui. Bella. Tutto in live. Bella questa giornata, eh? Assolutamente, sì. Che figata. Non vedevo l'ora. È qualche giorno che aspettiamo la neve, ragazzi. È arrivata questa mattina. Esatto. Tutto in live. Tutto in live. Assolutamente. Bene. Allora... Vabbè. È un po' per uno, vedi? Ti riprendi me e io riprendo te. Esatto. Ci riprendiamo a vicenda. A vicenda. Molto bene. Molto bene. La strada è lunghissima. Andiamo. In slow motion. Slow motion. Ah, è vero. Sì, bravo. È un po' per uno, vedi? È un po' per uno, vedi? Sì, bravo. È un po' per uno... andiamo a dormire andiamo a dormire tisanone dai vai avanti china guarda che roba con la gopro mamma mia quanta neve lumi eccoci ti sa che lumi non ha mai visto tanta neve no così tanta no guarda la stradina di sopra dove andava io guarda che roba allora siamo finalmente dentro lumi tisana time allora oggi è domenica come ho ripetuto tante volte ormai sono diventato un cinesino come qualcuno ma oggi è domenica ah no lunedì 10 siamo oltre alla mezzanotte quindi è lunedì siamo entrati nel lunedì volevo far vedere un attimo le stallattiti qua che figata il ghiaccio e continua a nevicare ovviamente quindi domani vediamo come ci ci svegliamo il riscaldatore sta andando tutto il giorno che va quindi figata funziona alla grande va bene buonanotte a domani ciao buongiorno 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 fettino. Buongiorno. Eccolo. Dai fai le scale, vieni su. Vieni su. Io dovrei raggiungere la strada. Cavoli ce n'è di neve. Bisognerebbe liberare qua. Adesso mi prendo la seconda pala. Leo? Non si vede più, poi non c'è neanche la peccorina. Comunque hanno sparso il sale, guarda che roba. Questo è perché c'è il sale. Si fa la puccia, fa scioglie. Si. Qui ho pulito. Adesso tolgo quello lì e siamo a posto. La strada è pulita. Mi pare che non c'è niente. Ma cavoli, è già mezzogiorno 17? Si, è tardi. Ma più che altro devo ritrovare accesa la farmacia. Guarda il bidone per cliccare. Si. Yeah, è partito. Ciurma, siamo pronti? Si. Vengo anch'io. Vai, vieni, sali prof. Oh, guarda un po' che nevica. Si trova il truco. Eh. Vabbè. Adesso riferi. Partite in tempo perché poi dopo qui nevica tanto. Eh, là è nero infatti. Guarda quanto è nero là. Andiamo. Guardalo. E via. Ci siamo. Per una nuova avventura. Per una nuova avventura. Grandi. Ciao prof. Ciao. Buone tirette. Grazie, a presto. Ciao. 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 Guarda che spettacolo. Ah, grazie. Guarda di me a schiacciare. Guarda di me a schiacciare. Tiriamo su qua. E via. Guarda di me a schiacciare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.